Con questo maglione impossibile non entrare nel mood ma se ancora non siete entrati nel mood corriamo a vedere cosa si nasconde dietro alla quarta casella Crema di piselli che da quando ho scoperto questa ricetta raga io che non mangio mai i piselli perché non mi piacciono Finalmente sono riuscito a inserire nella mia dieta quotidiana Questa ricetta è dedicata ad una ragazza che su instagram si chiama my healthy good diet perché lei cucina tantissimi piatti super con le verdure E prima di iniziare con questa ricetta vi ricordo che se volete avere degli spoiler o sapere in anticipo gli ingredienti che ci serviranno per la ricetta di domani Su instagram sicuramente troverete degli spoiler ma ora iniziamo a cucinare Prendiamo una confezione di ceci vanno bene quelli in vetro o anche quelli in lattina Li scoliamo e li condiamo con dell'olio d'oliva, un po' di sale, un po' di pepe e infine un bel po' di paprika A me piace con tantissima paprika questi ceci in modo tale da avere un bel gusto Però potete farli col gusto che volete in realtà con le spezie che vi piacciono di più Queste sono tra le mie spezie preferite e quindi ho scelto queste qui Condiamo per bene i nostri ceci e con un mestolo andiamo a spargere per bene tutto il nostro condimento attorno ai nostri ceci Una volta che sono ben condimentati possiamo o cuocerli al forno oppure come ho fatto io li possiamo cuocere in frigitrice ad aria Cosa che vi consiglio perché vengono stracroccanti così Li versiamo sul cestello della frigitrice ad aria o comunque se utilizzate il forno cercate di distribuirli tutti quanti per bene In modo tale che non siano sovrapposti gli uni agli altri E andiamo a cuocere a 180 gradi per circa 25-30 minuti A me 25 minuti sono bastati nella frigitrice ad aria però forse nel forno ci vorranno anche 30 minuti E voilà! Eccoli pronti i nostri ceci croccanti che già di per sé così sono una ricetta ma sono un plus in una crema ai piselli come quella che stiamo per preparare oggi Per la quale ci serviranno un paio di zucchine che andremo a tagliare a quadretti Tra l'altro a me piace molto tagliarle a triangoletti Fatemi sapere voi se siete tipi da tagli a triangoletti oppure a quadretti Fatemelo sapere nei commenti Prendiamo le nostre zucchine e le andiamo a versare in una pentola che andremo poi a ricoprire di acqua Questo perché le faremo bollire per qualche minuto finché si cuociono Se preferite potete anche aggiungerci il dado Anche se io per questa ricetta consiglio di non aggiungere tanti sapori perché già così è molto molto buona questa crema Una volta che saranno cotte le nostre zucchine prenderemo anche dei piselli Io ho utilizzato i piselli in vetro però potete utilizzare anche i piselli cotti normalmente al vapore, quelli che preferite E sia con le zucchine che con i piselli li andremo a frullare all'interno di un frullatore Oppure se avete il frullatore ad immersione utilizzate quello che è anche più comodo Ma come sapete io non ce l'ho quindi ho utilizzato il mio frullatore classico L'idea di fare delle creme con le verdure che non mi piacevano mi sono venute proprio seguendo questa ragazza Che nel suo profilo condivide un sacco di creme, ricette con le verdure che per me sono fondamentali Perché io oltre alle verdure alla griglia e verdure al forno Con molta difficoltà riesco a uscire insomma da questo loop e grazie a lei sono riuscito a trovare qualche altra alternativa E ho frullato come se non ci fosse un domani finché non mi è venuta fuori questa cremina E praticamente raga la nostra crema ai piselli è pronta Cioè è velocissima, semplicissima da fare Ma io che non mangio mai i piselli perché non mi piacciono per niente Soltanto in questo modo riesco a mangiarli e devo dire la verità ragazzi mi piacciono Quindi se anche voi fate difficoltà a mangiarli provate questa crema perché vi giuro che è buona E poi la morte sua è così con i ceci in superficie oppure con dei crostini Io sinceramente la preferisco molto di più con i ceci Però anche perché questi ceci sono una bomba Cioè sono buonissimi anche solo da preparare e da tenere come snack Come qualcosa da sgranocchiare nel corso della giornata Cioè vi giuro che sono troppo troppo buoni A me piace anche aggiungere un filo d'olio in superficie E voilà che è pronta la nostra crema ai piselli Ditemi se non vi fa voglia questa crema ai piselli Cioè io non avrei mai immaginato che una crema ai piselli Specialmente poi con questi ceci croccanti Cioè la fine del mondo proprio Io spero che questa ricetta vi sia piaciuto Se è stato così lasciate un like Ma spero soprattutto che sia piaciuta a Sofia O My Healthy Good Diet Come preferite chiamarla Vi ricordo di condividere attraverso una foto con me Tutte le ricette che provate a rifare E che vedete sul mio canale Oppure sul mio profilo Instagram E parlando proprio di Instagram Vi ricordo che lì troverete gli spoiler Per la ricetta di domani che non ve la potete perdere Vi dico soltanto che è un classico del Natale Noi ci vediamo domani Stessa ora, stesso posto E vi auguro delle buone feste E vi auguro delle buone feste